Torna l'atteso appuntamento con Sentieri Sonori, la rassegna dedicata alla scoperta dei Colli Uganei attraverso esperienze che combinano trekking, musica e natura. Un'iniziativa meravigliosa che permette di valorizzare uno degli angoli più belli della nostra provincia, i Colli Uganei, portando appunto sport, trekking, cultura, musica in questi sei luoghi magici nei Colli Uganei. Quindi la provincia davvero fa un applauso agli organizzatori, alle amministrazioni, al Parco Colli per avere anche quest'anno riproposto un'iniziativa che sta caratterizzando il territorio e che lo sta arricchendo sotto tutti i punti di vista. Eventi di questo tipo forniscono non solo una visibilità al territorio, ma danno anche la possibilità di far crescere quelle che sono le attività economiche e strutturali. Abbiamo un'importante mission, noi come Parco Colli, che è quella di valorizzarlo il nostro territorio e soprattutto di valorizzarlo senza rovinarlo. Quindi sostenibilità ambientale, trekking, musica, cultura e storia sono un connubio eccezionale. Il Sentire di Sonori è un'escursione di concerti che si svolgono nei Colli Uganei e a cui si accede attraverso un'escursione guidata. Inizieremo l'11 giugno e per sei sabati, in sei luoghi diversi, avremo sei appuntamenti con artisti nazionali e internazionali. Partiremo il giorno 11 con Stu Lars, un cantautore australiano, ad aprire il concerto ci sarà Dami McFly. Continueremo il sabato successivo al Chiardiluna con Ica Montigra, Montegrotto, successivamente LNDFK, che è una delle più giovani promesse della musica solo italiana. Il 2 luglio Marco Castello a Lozza Testino, il 9 luglio con Ilaria Mandruzzato a Villa Beatrice d'Este, quindi a Baone. Per finire il 16 luglio chiuderemo con un altro nome di punta che è Carmen Sousa e Teo Pascal ad Abano Terme. Per chiunque volesse partecipare trovate tutte le informazioni sul sito che è sentierisonori.it e sui nostri social, quindi Instagram e Facebook, sempre su Sentieri Sonori.